Tante associazioni oggi di donne davanti a un tribunale, anche una manifestazione simbolica per quanto è successo a Modena. Anni di denunce e di sottovalutazioni del problema. Questo è il tema che avete posto anche oggi, un problema giuridico oltre che culturale. Sì, abbiamo deciso di manifestare davanti al tribunale di Modena, non perché sia un problema solo il tribunale di Modena, ma è un problema che è di tutti i tribunali italiani. Il non riconoscimento della violenza contro le donne non è emerso solamente nella commissione femminicidio, ma è arrivata in questi giorni la quinta condanna della Corte di Strasburgo allo Stato italiano per non aver tutelato una donna che aveva fatto ben sette denunce che non avevano portato a nessuna misura cautelare nei confronti di quest'uomo. C'è un problema perché si spingono le donne a denunciare per poi archiviare, si accusano le donne di mentire perché si dice che le archiviazioni che dipendono dal non riconoscimento della violenza siano calunnie. Le donne restano quindi non protette e la cosa peggiore è ciò che avviene nei tribunali civili dove si impone alle donne l'affido condiviso anche con uomini violenti perché anche lì i giudici civili pensano che le denunce delle donne siano strumentali. Dopo tante leggi, la Convenzione di Istanbul, siamo veramente stanche perché le donne sono anche loro cittadine e hanno dei diritti e bisogna che questi diritti, in primis il diritto alla vita, venga riconosciuto e applicato nei tribunali italiani. È un problema più di legge a questo punto o di mancata applicazione o distorta applicazione della legge? Noi abbiamo tantissime leggi, abbiamo anche delle buone leggi. Il problema è che non vengono applicate, è un problema non tanto di interpretazione ma di non riconoscimento della violenza, non riconoscimento per esempio della violenza psicologica e il pregiudizio sulle donne che mentono e che lo fanno perché vogliono rovinare le ex perché si separano. Questi sono i luoghi comuni che purtroppo sono trasversali dall'uomo della strada ai tribunali.